Un voto ogni cinque anni per ribadire l'ovvio. L'Azerbaijan è guidato dal clan Aliyev. 5,2 milioni di elettori azeri vanno alle urne per un'elezione presidenziale in certo senso storica. Avviato alla rielezione certa, il presidente Ilam Aliyev otterrà il terzo mandato consecutivo battendo il record del padre che ha guidato l'ex Repubblica Sovietica per dieci anni prima di passare allo scettro al figlio nel 2003 con un'inedita modalità di trasmissione familiare del potere. Il paese più grande strategico del Caucaso, ricco di idrocarburi e fondamentale per il passaggio delle truppe americane verso l'Afghanistan, vanta un tasso di crescita del 5,3% nel 2013 pari soltanto ai suoi problemi di corruzione, violazione di diritti umani e pressioni sull'opposizione imbavagliata.